Dentro e fuori la notte dei verdetti si giocano le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale dei play-off. Serve un miracolo al Foggia dopo il 4-1 rimediato a Cerignola. La squadra di Dele Russi ha trascorso tre giorni di ritiro a Bisceglie per ritrovare serenità e isolarsi da un ambiente infuocato, lontano da un clima ostile, sfociato nell'agguato al pullman dei rossoneri da parte dei propri tifosi al ritorno dalla gara del Monterissi. Il 4-1 rappresenta un enorme vantaggio per l'audaceo di Cerignola che sogna in grande ma è consapevole che allo Zaccheria sarà battaglia. All'Adriatico invece è prevista la carica di quasi 10.000 tifosi per spingere il Pescara alla qualificazione ai quarti di finale. Ieri durante la rifinitura 1.000 sostenitori hanno incitato la squadra di Zeeman, reduce dal 2-2 sul campo della Virtus Verona. Negli altri confronti la Virtus Antilla dovrà rimontare due reti al gubbio dell'ex bianco verde Braia. A Vicenza basterà la vittoria contro la Prosesto che all'andata si è imposta per 2-1 su Biancorossi. Sarà obbligata a vincere anche l'Ancona dopo il 2-2 in casa contro il Lecco.